Ciao, sono di nuovo qua, questo è un video con delle considerazioni che sto facendo in questo momento mettendo via gli acquisti che vi ho fatto vedere nel precedente video fatti appunto da Panda All, Panda All come si chiama, allora aveva ragione Annarella perché allora ripeto sono comunque abbastanza soddisfatta di tutto quello che ho preso, ho preso Mirato come dicevo prima per cui non ho rischiato più di tanto però ho trovato diverse pecche, allora la prima è innanzitutto la puzza incredibile che avevano le roselline, quindi ho messo tutto a mollo con acqua con un profumo al cocco, le lascio qua un po' e poi le tiro fuori e le asciugherò e apparentemente sembra che la puzza sia andata via e quindi insomma roselline a mollo per la puzza incredibile, anche le mani mi aveva contaminato dalla puzza per cui fate un po' voi. cosa ho trovato? Ho trovato innanzitutto le famose palline colore schifidus, guardate questi sono i brillantini che si sono staccati, erano già dentro nel sacchetto, adesso ci sta che ci sia qualche nella quantità qualcuno che vada buttato, qualche scarto ecco, l'unica cosa che spero è che non si stacchino tutti, tutte completamente queste palline, i brillantini, poi magari no, però sapete quando uno acquista per vendere delle creazioni e poi dopo si ritrova tutte queste palline, tutte diciamo rovinate, insomma un po' brutto almeno, io mi vergogno tantissimo e quindi vabbè insomma le testerò e poi vi farò sapere, comunque volevo avvisarvi che sicuramente nella quantità ci sono qualcuna da scartare, come vabbè era abbastanza logico. Poi passiamo alle base per anelli, allora queste che erano le più belle dell'usione totale, perché adesso innanzitutto ci sono dei, come cavolo si chiamano, delle basi proprio che regolabili, che erano tutte una insieme all'altra, ma alcune erano già anche aperte, ho dovuto comunque cercare di sistemarle, poi con magari una base cercherò di fargli riprendere un po' forma e questo sarebbe il meno, vedete, erano un po' così, vabbè, se non che alcune ho dovuto sistemare anche proprio la piattina, la filigrana sopra, perché erano così, dove stare ve l'ho lasciata appositamente, la vedete? Ma tantissime ne ho trovate così, tantissime, quindi io devo con la mano, adesso io con una mano sola non riesco a stare a sistemarmele tutte, guardate, guardate come fanno le basi, cioè questa qua è l'usione totale, belle, come dicevo prima, ma adesso io dovrò testare sia una che l'altra, perché non voglio comunque preparare delle creazioni e fare delle figure, cioè, non lo so, anche questa, non so se riuscite a vedere che è piegata, ma queste tantissime, è vero che magari nel sacchetto con le spedizioni rimangono un po' più, non rimangono perfettissime, però insomma uno le ha anche pagate, se io devo comunque star lì a sistemarmele tutte e sperare che non si rovinino addosso alle persone, insomma un po' mi girano, ecco, e quindi niente, anche queste vi saprò dire, guardate anche questa, vi saprò dire, boh, che resanno insomma. Queste invece le ho trovate la maggior parte perfette, nel senso che apparentemente, non so questa è la bagnata dall'acqua, apparentemente sono messe bene, sì, alcune ho trovato la piattina, magari sporca di colla e non viene via, solo che queste qua se le metto nell'acqua ho paura poi dopo di rovinarle, ecco, adesso ne passerò una a una con lo straccio bagnato, soprattutto quelle sporche, sporche, e vedremo, però queste qua diciamo che sono quelle che dovrei usare di più, però non mi fido neanche qua, nel senso che anche di queste voglio testarle per vedere un attimo la durata del colore e tutto, attaccherò una rosellina e vi saprò dire. Queste sono proprio le considerazioni sul momento che sto facendo, poi vabbè, per quanto riguarda le coppette, oddio mio, ragazze, le cambierò sacchetto e metterò in una scatola, ma non so sinceramente ancora dare un parere. Mi sembrano, mi sembrano abbastanza belle, insomma, sono coppette, anche quelle con i fiori non ne ho viste, non ho visto nessuno che li rovinato, però niente, questo qua è soltanto per mostrarvi queste, insomma, delle considerazioni che sto facendo, soprattutto delle cose che mi hanno magari un po' delusa, fatto rimanere male, sull'ordine che appunto ho fatto. E niente, vi mando un bacio, ciao!